maurii sta avendo un mancamento su polen angel che immagina brian che la cosa tipo for us che dice un sarraschiamento che è un sarraschiamento cos'è che dice? poi dice for us ah si fa un sarraschiamento molto corto è una pesatura che la darei però va bene che è che dice? se è Fabio ma che è capace Fabio? che è capace? amore della mia no amore della mia non 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 amore della mia ma sottola non amore della mia ma sottola si è capace piirà piirò Maria è venuta in questo anno. Io ho già dato. Però devi stare per uomo perché sto facendo città. Now this is answering I wanna know How does it feel to be a falling angel? T'abbiamo sentato da un concetto How does it feel to be a falling angel? That's what I wanted to be But everything is just a dream from me So how does it feel How does it feel to be a falling angel? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti